E poi vi posso dire una cosa, voi ridete, ma basta prendere per il culo i calvi, i calvi sono capaci di grandi imprese e ce lo ha dimostrato signori il più calvo di tutti, Salvatore Aranzulla. Avete idea di cosa è diventato Salvatore Aranzulla? Andate sull'Instagram di Aranzulla adesso, si fa solo foto nudo. Allora, Aranzulla prima era un magrolino nerd che ci insegnava come formattare Windows 95. Aranzulla, oggi, è una branda che spacca i computer con il cazzo. Si è fatto di steroidi. Come frantumare il tuo Macintosh a colpi di nerchia, un tutorial di Salvatore Aranzulla.